No, guardi, questa è una supercazzola che si autoriproduce. Ora le spiego anche perché. Guarda tecnicamente, tecnicamente. Non so, dico che anche è un volgare tentativo di una compravendita di voti alla vigilia delle elezioni europee. Veda, io che in questo momento sto portando avanti l'operazione Cesoia, perché Taormina è in dissesto e sto girando a tagliare l'acqua utente per utente, e in tre mesi ho incassato l'800% in più rispetto agli ultimi cinque anni, che ho mandato 25.000 avvisi per quanto riguarda la Tari non pagata, e quindi sto risalando il comune, avevo già la prospettiva a giugno di uscire proprio dal dissesto, un provvedimento del genere significa far pagare quindi al sindaco De Luca, come tutti i colleghi sindaci, un'operazione elettorale volgare del quale non si è neanche posto il problema, quale sarà l'effetto sui bilanci dei comuni. E appunto, che succede? C'è un fondo, si chiama Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, cioè noi in questo momento i comuni devono accantonare per ogni euro non riscosso di tributi, devono accantonare un altro euro e lo devono lasciare bloccato fino a quando non riscuotono quell'euro. Cosa significa questo? Che nel momento in cui si fa questa operazione, saltano i bilanci dei comuni se in questo provvedimento non ci sono i soldi per pareggiare i conti, cose che mancano in questa analisi. Ma loro dicono qual è il problema? Vai tu a cercarli. Guardi, certo, infatti, ed ecco la supercazzola. E arriviamo anche qui, per quanto riguarda questa questione. In questa analisi lo sa cosa manca? Quanta è la quota a carico dei comuni che verrebbe a mancare? Non solo. Ma noi non possiamo mettere i sindaci poi contro i propri contribuenti per la serie, poi sei tu che riprendi la ramazza. Io lo sto facendo, ma questo provvedimento significa uno, che non ci sono la quantificazione dei soldi che vengono a mancare ai comuni. Seconda cosa, l'effetto di coloro, io ero sindaco anche a Messina, ho evitato il dissesto, ho salvato il comune di Messina, perché mi sono messo proprio a fare il daziere anche per conto dello Stato. Quindi ho fatto il mio dovere ed ora mi ritrovo con un provvedimento del genere che sconfessa la mia coerenza, il mio buon governo e dopodiché loro si fanno belli sulle nostre spalle. Però dice Giorgia Meloni, onorevole Appendino, non si disturba chi produce la ricchezza. È bravissima, è bravissima. Se continua così, noi bagheremo le sue cambiari però. Non si disturba chi produce la ricchezza, onorevole Appendino. Scusi, non completo. Sto parlando con l'onorevole Appendino. Scusi, non l'ultima cosa. A Taormina ho l'evasione dei ricchi, cioè non sono poveri. Io ho chiuso l'ultima transazione la settimana scorsa per 3 milioni e mezzo per dare acqua non riscossa da grossi gruppi, alberghieri. Quindi non è anche qui la questione sociale. Non esiste proprio, bisogna proprio modificare le cose. Premesso che questo governo...